Una fiammata di caldo è prevista per le prossime ore in tutto il Veneto, le temperature già alte toccheranno i 38 gradi. La dichiarazione di allarme climatico per disagio fisico che riguarda gran parte della regione potrebbe essere prolungata anche nei prossimi giorni. Da qui il messaggio del presidente del Veneto ai cittadini Luca Zaia, l'invito ad essere comunità, aprendo le porte di casa alle persone più fragili che non possono proteggersi dal caldo. Segnalare situazioni di disagio, persone sole, aprire le porte a vicine conoscenti, scrive Zaia, un atto di gentilezza ma anche di solidarietà. Per chi vive nelle zone affollate o isolate continua, è importante verificare regolarmente le condizioni di anziani, persone fragili e chi è sottoposto a cure mediche debilitanti. Verona e Vicenza, le province più calde con punte di 35 gradi nella giornata di oggi. Intanto c'è l'allerta a meteo nelle zone montane per le prossime ore. Il bollettino meteo di Arpava prevede possibili fenomeni temporaleschi anche intensi.